Grazie a tutti. Sia in associazione al concetto di invecchiamento di successo e sia al fatto della sua applicabilità a livello anche fuori dall'area mediterranea, come vi dimostrerò. La mia lettura sarà sostanzialmente divisa in tre parti. Sulla prima appunto sottolineerò alcuni aspetti che Luigi ha già presentato in maniera molto brillante, su come l'invecchiamento di successo debba essere affrontato durante tutto l'arco della vita e con un approccio che io ho definito ecologico, cioè globale, non solo focalizzato sull'aspetto medico. E utilizzerò la dieta come uno dei pilastri fondamentali durante tutto l'arco della vita per poter ottenere e raggiungere un invecchiamento di successo. Altri pilastri come sapete sicuramente quello dell'attività fisica. Un altro che da geriatra mi piace sempre molto sottolineare è quello dell'adesione al programma vaccinale, perché i vaccini sono un altro potentissimo stimolo all'invecchiamento di successo. Non lo trattiamo oggi, ma è uno dei tre pilastri che in tutti i miei articoli scientifici io sottolineo. E poi mi focalizzerò alla fine sul fatto che la dieta mediterranea, anche da un punto di vista ambientale, è considerata la miglior dieta sostenibile a livello globale per affrontare anche il problema dell'ambiente e quindi l'impatto anche dell'inquinamento sulla fragilità e sull'invecchiamento patologico. Quindi il primo aspetto appunto è questo dell'approccio ecologico. L'epidemiologia sicuramente ha aiutato moltissimo ad identificare quelli che sono i limiti del modello che una volta utilizzavamo, fattore di rischio singolo e malattia, colesterolo alto, malattia cardiovascolare. Perché appunto conosciamo tutti benissimo da un punto di vista generale che abbiamo anche persone adulte, anziane con il colesterolo alto che non sviluppano la malattia cardiovascolare e quindi questo fattore di rischio, che sicuramente è un fattore di rischio importante, va però valutato nell'ambito di quelle che sono esposizioni a fattori di rischio o a fattori protettivi di questo individuo. E poi abbiamo appunto quindi la necessità di focalizzarsi su quelli che sono, non sono gli aspetti, i fattori di rischio biologici, ma anche ambientali, sociali, socio-economici, come il professor Angeli ha chiaramente sottolineato, che tutti insieme influenzano in maniera determinante la nostra possibilità di raggiungere un'età avanzata e di raggiungerla con uno stato di salute soddisfacente. E quindi sia il modello di studio e sia gli interventi che noi andiamo a programmare devono essere, devono tener conto di tutto questo aspetto nella necessità di prevenire le malattie e promuovere l'invecchiamento di successo. E l'OMS ha prodotto un paio di qualche anno fa un rapporto sul salute e invecchiamento che a mio avviso è estremamente bello e innovativo. Perché? Perché ci sottolinea in maniera grafica molto chiara come effettivamente nel definire quello che sarà il nostro invecchiamento che non è un fenomeno random ci siano diversi fattori c'è una componente genetica che è una ma neanche la più importante poi ci sono quegli aspetti della nostra persona se siamo maschi, femmine, bianchi, neri, gialli dove viviamo e questo è un altro aspetto assolutamente l'ambiente non solo ambientale ma gli aspetti ambientali ma anche socio-economici e poi quali sono le nostre abitudini il nostro stile di vita attività fisica, dieta, sovrappeso tutti questi aspetti che andremo a vedere e questo di nuovo in maniera grafica molto a mio avviso impattante dimostra quello che Luigi ha detto nella sua lettura ossia che già a livello di in utero o forse anche prima la salute dei nostri genitori alcuni aspetti ci danno già la caratterizzazione all'inizio della vita se saremo in una traiettoria ad alto rischio o a basso rischio di ammalarci di sviluppare patologie croniche e quindi poi ci sono tutti gli aspetti appunto che possono andare a incidere su come questa traiettoria che è definita già alla nascita potrà modularsi nell'arco della vita ma questo aspetto è dimostrato molto bene in questi esempi sugli animali ma ormai abbiamo anche esempi nell'uomo questi due topini hanno lo stesso gene che tende all'obesità che tende a produrre grasso il topino che vedete di normali dimensioni è il figlio di una mamma a cui sono stati dati supplementi di vitamina B in gravidanza e questo ha silenziato il gene dell'obesità e come vedete appunto non ha manifestato l'obesità quindi poi nella sua vita e questo è un dato che secondo me spiega benissimo il concetto che Luigi ha espresso prima di controllo epigenetico appunto già nella fase di vita in utero l'obesità viene spesso considerata come appunto ed è un problema molto importante soprattutto nei bambini italiani che vedete nelle statistiche europee dimostrano sono il percentuale più alta di obesità le cause dell'obesità sono moltissime sono in parte genetiche come abbiamo appena visto ma ci sono anche chiaramente lo stile di vita l'attività fisica gli aspetti socio-economici importantissimi e che causano che entrano proprio nella determinazione nella loro interazione porta all'aumento o alla diminuzione del rischio di sviluppare l'obesità durante la vita giovane e adulta e questo è un fattore di rischio importantissimo per tutte le patologie croniche dell'invecchiamento dal diabete alla malattia cardiovascolare agli aspetti psicosociali alla depressione e tante altre caratteristiche l'obesità è solo un esempio di fattore di rischio che viene considerato fondamentale anche per spiegare un andamento molto preoccupante che noi abbiamo visto negli studi epidemiologici non solo in Italia ma come vi mostrerò rapidamente senza entrare in nessun dettaglio di questi studi il problema è che noi abbiamo fatto tutte le nostre previsioni su come sarà la salute degli anziani delle future cohorti di anziani basandoci sullo stato di salute degli attuali anziani però abbiamo un andamento molto preoccupante negli adulti che adesso hanno tra i 50 e i 64 anni che in molti paesi si sta vedendo hanno dei livelli di disabilità fisica superiore a quella della coorte precedente a quella degli attuali anziani e questo può essere legato all'aumento dell'obesità al fatto che il diabete una volta cominciava il diabete di tipo 2 intorno ai 50 anni adesso molti anni prima a tutta una serie di frattori sicuramente allo stile di vita altamente stressante però di fatto guardate un po' queste diapositive questo riguarda una corte finlandese stessi dati sono stati riportati in Francia e dicono esattamente lo stesso che bisogna monitorare le cohorti di adulti giovani perché il loro stato generale di salute è peggiore di quelle cohorti precedenti lo stesso riportato negli Stati Uniti sia per quanto riguarda le attività di vita quotidiana quelle strumentali più elevate nella mobilità e quindi su tutti gli aspetti della funzionalità fisica anche dati italiani avevano riportato che abbiamo avuto un aumento di circa due anni fra il 2005 e il 2013 però abbiamo avuto un aumento importante di vita vissuta con più disabilità nei quindi e lo stesso dato esattamente negli Stati in Gran Bretagna nel Regno Unito in cui si vede che la speranza di vita senza disabilità rappresentata nella barretta arancione è prevista aumentare tra il 2015 e il 2025 questi sono dati che ci preoccupano un po' per cui dobbiamo fare molta più attenzione in Italia non se ne fa abbastanza su quella che è la promozione della salute la prevenzione delle malattie e soprattutto l'attenzione a questa interazione tra fattori di rischio diversi come quelli socio-economici con quelli comportamentali e adesso parliamo invece di dieta appunto che abbiamo detto noi abbiamo c'è Claudio Franceschi in sala che ha creato e ha dato un contributo enorme alla ricerca geriatrica con la teoria dell'inflammaging ossia la chiave del successo dell'invecchiamento e della longevità potrebbe essere nel diminuire quell'infiammazione di basso grado ma cronica che è alla base di tutte le patologie croniche tipiche dell'invecchiamento però dobbiamo farlo in maniera da non compromettere la nostra capacità immunitaria di reagire invece ad uno stimolo acuto quale un'infezione quindi è un argomento molto importante e ci sono delle indicazioni molto chiare che la nutrizione è lo strumento più efficace più potente e modificabile che noi abbiamo a disposizione per poter modulare questo fenomeno dell'invecchiamento caratterizzato dall'infiammazione cronica la nutrizione adeguata ha la capacità dimostrata scientificamente di ridurre l'infiammazione cronica e questo è uno studio che ha riassunto 24 studi pubblicati su riviste molto importanti una meta-analisi scusate una review sistematica che va a valutare quali sono i pattern dietetici che possono garantire questo impatto sulla diminuzione dell'infiammazione cronica ed è stato chiaramente evidenziato che una dieta occidentale basata soprattutto sul consumo di carni rosse ha un impatto molto importante su tutti i biomarcatori di infiammazione proteina C fibrinogeno e altri indicatori molto precisi mentre una dieta che si basa più sul consumo di frutta e verdura è al contrario associato a una diminuzione di questa infiammazione sistemica e il gruppo di appunto Claudio Franceschi ha preparato questo grafico e pubblicato alla fine di uno studio europeo molto chiaro che dice che lo stesso che possiamo ottenere con la restrizione calorica che probabilmente è il pattern dietetico in assoluto più studiato e più supportato così come con la dieta mediterranea e con l'esercizio fisico durante tutto l'arco della vita possiamo far fronte a quelli che invece sono gli stimoli negativi basati su infezioni sia virali che batteriche sullo stress psicologico su quegli stimoli fisici ambientali che portano all'inflammaging e quindi a tutte quelle patologie associate e patologie e disabilità funzionale come è stato detto in precedenza e questo è un editoriale molto bello che vi invito a leggere perché dice il potere della nutrizione come medicina è il segreto che la medicina stessa è riuscita a conservare in maniera più 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 egoistica e effettivamente questo è vero perché noi dalle nostre università e dalle scuole di specialità usciamo effettivamente con poche nozioni su quello che è l'impatto della nutrizione sulla salute e sul benessere della medicina e questo sottolineava che appunto la dieta mediterranea che qua vedete raffigurata nella solita piramide che tutti noi conosciamo con l'abbondanza di frutta verdura olio di oliva come fonte principale di grassi e pesce principalmente porta appunto e poca carne rossa porta alla e rappresenta il profilo dietetico più consigliato per il benessere però c'è una cosa che adesso nella in questa ultima versione della piramide viene sottolineato in maniera molto chiara è la frugalità cioè la porzioni le porzioni è un aspetto molto importante perché in uno studio che noi come CNR e Fondazione Dieta Mediterranea abbiamo fatto confrontando i pattern dietetici dei ragazzi al sud in Puglia nel Veneto e in Lombardia e si vede che c'è al sud un'adesione maggiore alla dieta mediterranea ma con porzioni che sono inadeguate troppo abbondanti che portano effettivamente ad un aumento del peso e l'obesità è più marcata infatti nelle regioni del sud che del nord e in più un'attività fisica inferiore rispetto ai ragazzi del nord quindi anche i buoni cibi che fanno bene chiaramente se in quantità inadeguate fanno male e l'altro aspetto che la nuova piramide sottolinea è il fatto del rispetto per la biodiversità per la stagionalità e per le attività per la modalità con cui si preparano i cibi anche quindi la modalità di cottura ma soprattutto sull'accompagnare questa dieta ad una regolare attività fisica e al consumo dei pasti possibilmente in famiglia comunque di dare un valore molto importante alla convivialità e questo è un aspetto che effettivamente quando l'UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea come bene immateriale dell'umanità e questo riconoscimento risale al 2010 ha sottolineato che non è solo per la composizione di questo pattern dietetico ma è anche per gli aspetti culturali e i valori che la dieta mediterranea porta con sé e che vengono riconosciuti appunto come un bene immateriale dell'umanità io non ho tempo per entrare in dettaglio su tutta l'evidenza scientifica che c'è tra dieta mediterranea e malattie croniche dell'anziano vi ho riassunto in questa tabella un dato che era riportato sia in un in un giornale di occupational medicine ma anche sulla rivista nutrients dove abbiamo con i partecipanti a un convegno internazionale di di un anno fa riassunto e chiamato tutti gli esperti internazionali più conosciuti e a parlare appunto dell'evidenza scientifica che c'è e vedete che abbiamo tra il 20 e il 50 per cento di riduzione del rischio delle maggiori patologie cardiovascolari tumori diabete disturbo cognitivo e demenza dimostrati non solo in studi osservazionali quindi retrospettivi in studi longitudinali quindi seguendo cohorti di persone per molti anni e la maggior parte di questi risultati adesso hanno anche un'evidenza in trial clinici randomizzati per cui sull'evidenza scientifica che la dieta mediterranea abbia un impatto positivo sulla nostra salute penso di poter dire senza ombra di dubbio che abbiamo un'evidenza non solo nei paesi del Mediterraneo ma studi riprodotti anche in paesi del nord Europa e degli Stati Uniti così come in Australia o in Sud America dimostrano e sono tutti coerenti nel dimostrare questo beneficio c'è un aspetto che Claudio Franceschi sottolinea per i risultati che forse presenteranno pomeriggio in cui ci sono anche dei sottogruppi di persone chiaramente noi parliamo di dati di popolazione o di trial clinici ci sono dei sottogruppi di persone che lui nel New Age nell'ultimo progetto europeo che ha fatto non rispondono invece alla dieta mediterranea e questo può essere per diversi motivi stessi motivi per cui non tutti rispondono bene a un farmaco anche se dimostrato essere molto efficace per la dieta mediterranea c'è un dato che io ho trovato molto interessato un dato di laboratorio fatto su una popolazione di topini in cui si vede che se vengono esposti alla dieta mediterranea fin da piccoli diciamo questo ha un impatto importante e significativo sulla diminuzione dell'infiammazione sistemica e anche sulla diminuzione dell'infiammazione dell'immunità innata o scusate no se invece sono esposti a una dieta tipo occidentale ricca appunto di grassi si vede che hanno un aumento dell'infiammazione sia sistemica che innata se vengono esposti prima a una dieta occidentale e poi vengono invece nutriti secondo un principio di dieta mediterranea vedete che c'è un'efficacia di diminuzione dell'infiammazione sistemica ma il nostro organismo ha una memoria e la memoria dell'immunità innata invece resta alterata e questo potrebbe spiegare anche perché magari se cambiamo abitudini alimentari da adulti potremmo non ottenere lo stesso impatto positivo che si ha invece con un'adesione a un modello dietetico alimentare sano fin dall'età infantile e questo è molto importante perché io la settimana scorsa ho visto un disegno di legge con alta probabilità di essere approvato per interventi educazionali nelle scuole però sarebbe sicuramente meglio di niente però sarebbe molto importante cominciare ancora nelle scuole dell'infanzia nell'asilo addirittura subito dopo lo svezzamento come dimostra un bellissimo studio europeo che è stato coordinato da olandesi e che hanno anche studiato quali sono le modalità per abituare i bambini piccoli a mangiare vegetali frutta e per dire come questo studio sia stato di successo perché ha integrato le competenze di nutrizionisti con quelle di psicologi dell'età evolutiva con quelle di vari specialisti pediatri e quindi sempre un lavoro di gruppo che è l'unico modo per avere successo quando vogliamo agire sullo stile di vita questo è uno studio molto importante fatto utilizzando lo score di adesione alla dieta mediterranea in cui si dimostra non solo l'importanza sulle malattie croniche sulla prevenzione delle malattie croniche ma anche sulla longevità e Virginia Boccardi del gruppo di Patrizia Mecocci ha dimostrato come effettivamente questo pattern dietetico abbia la possibilità di agire sulla lunghezza dei telomeri che sapete essere un indice importante per la longevità ma anche sull'enzima sull'attività della telomerasi quindi questo è stato un dato molto ben accolto dalla comunità scientifica che ha voluto ripetere lo studio è stato fatto un altro studio in Inghilterra su una popolazione più giovane ed ha confermato esattamente questi dati quindi è molto interessante per cui non stiamo parlando solo di nutrienti noi sappiamo che la dieta mediterranea fa bene perché si basa su un consumo di grassi monoinsaturi con un buon rapporto tra polinsaturi omega 3 e omega 6 un alto introito di fibre un ricco apporto di antiossidanti vitamina E C resveratrolo ma anche tutto se diamo questi nutrienti singolarmente non sono efficaci non c'è una dimostrazione di un trial che dando questi nutrienti singolarmente ci sia un impatto sulla salute e proprio quindi l'insieme la combinazione di questi ingredienti insieme per cui l'organizzazione la combinazione dei vari cibi il clima che si crea intorno ad una tavola e anche la scelta di come cucinare i cibi sono tutti fattori molto importanti che il Consiglio europeo ha sicuramente il Parlamento europeo ha sicuramente adottato e consigliato ai paesi membri di preparare linee guida di stimolare le popolazioni ad aderire a questo modello dietetico lo stesso ha fatto gli Stati Uniti però vedete che se guardiamo l'andamento storico la dieta mediterranea oggi viene adottata molto di più in paesi come l'Iran che è sicuramente e qua c'è una motivazione oppure del United Kingdom i paesi del nord Europa mentre sempre meno in Italia ancora meno in Grecia e Turchia e questi Spagna che sono invece la culla della dieta mediterranea l'ultimo aspetto brevissimo la dieta mediterranea come sapete è stata studiata in particolare da Ansel Kiss questo fisiologo americano che negli anni 50 è venuto in Italia e ha notato che lo stato di salute cardiovascolare era molto migliore nella popolazione della Campania rispetto ai ricchi americani del Minnesota che lui aveva studiato ha voluto approfondire questi aspetti è stato appunto da lì sono partiti tutti gli studi e tutte le evidenze scientifiche oggi siamo arrivati anche e soprattutto in occasione del Expo 2015 a dire che la dieta mediterranea ha anche un valore oltre che nutrizionale molto importante per la sostenibilità ambientale mi spiace dover andare un po' di fretta adesso perché questi aspetti sono altrettanto importanti proprio perché si è dimostrato che una dieta basata principalmente su consumo di vegetali e queste risorse hanno un impatto ambientale molto inferiore rispetto appunto al consumo di carni grasse carni rosse che guardate in Cina per esempio negli ultimi anni tra l'80 e il 2010 c'è stato un aumento del 1300% della richiesta di cibi basati appunto su basi animali quindi e questo è un andamento che si vede in tutti i paesi come si vede molto chiaramente che gli allevamenti bovini sono quelli che hanno il più alto impatto soprattutto sull'emissione di gas serra rispetto invece all'impatto molto molto inferiore che possono avere tutti i componenti della dieta mediterranea la produzione di carne appunto da ruminanti ha un'emissione di gas serra da 2 a 10 mila per cento più importante di quello basato invece su cibi vegetali per cui si parla di trilemma dieta ambiente e salute perché l'adozione di un stile dietetico più sano porterebbe non solo una diminuzione della mortalità in generale del 17% ma anche un impatto ambientale del 60% inferiore per non dire che l'inquinamento stesso ha un impatto molto negativo sull'invecchiamento perché come vedete in questo grafico l'esposizione all'inquinamento ambientale promuove tutte queste patologie che ben conosciamo ma soprattutto nella popolazione più fragile e anziana c'è un'accelerazione del processo di fragilità e di invecchiamento patologico causato dall'inquinamento ambientale e il gruppo di Bruno Vellas aveva pubblicato questo articolo in cui andavano proprio a studiare i meccanismi biologici per cui l'inquinamento ambientale porta a promuove la frelti nell'anziano perché aumenta l'infiammazione aumenta lo stress ossidativo ci sono fenomeni epigenetici che causano appunto questa progressione negativa e quindi in conclusione il mio messaggio è che noi abbiamo abbastanza conoscenze per poter avere un impatto importante sul benessere della popolazione in generale e promuovere l'invecchiamento di successo il problema non è quello che non sappiamo ancora ma il fatto che non mettiamo in pratica quello che di fatto sappiamo già essere evidentemente positivo grazie grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti